Non poteva mancare lei la Miss TV, Stefani Di Castro, che oggi è con me dietro le quinte per fare le dirette, per fare le interviste alle candidate. Stefani, le emozioni? La mia emozione è grandiosa, veramente, perché è un evento che è la prima volta che vengo nel Miss Barbie, quindi ci sono tante, tante bellissime ragazze, sono veramente emozionatissima, insieme a piccole transgressioni, piccole magazine, sarò insieme a Lini Battista a fare questo evento. Per me è un grandissimo piacere, Stefani è una persona meravigliosa, ieri è stato di grandissimo aiuto, abbiamo fatto per un'associazione una onghi, una lasta, dove siamo riusciti a ricavare dei soldi per questa asta beneficente, vero? È vero, abbiamo riuscito a raccogliere dei soldi per aiutare questa onghi, è stato un evento anche molto bello, c'era pienissimo, tanti ospiti di onore che sono anche questa sera, io ci sarò dietro le quinte con voi. Perciò ragazzi, fra un po' teniamo gli aggiornamenti nelle dirette tra me e Stefani. A tra poco! A tra poco! Don't let me down Don't let me down Don't let me down